Ciao ragazzi, sono Francesco e oggi voglio parlare con voi di un frutto famoso in tutto il pianeta e super apprezzato da grandi e piccoli, la banana. La banana è coltivata in numerosi stati del mondo, prevalentemente caratterizzati da un clima di tipo tropicale, con temperature che non scendono mai sotto i 18 gradi e con precipitazioni abbondanti. Lo sapete che in base al colore della sua buccia i benefici sono diversi? Le banane più verdi, per esempio, sono poco zuccherine, hanno un indice glicemico basso e il senso di sazietà che danno dura più a lungo. Per chi preferisce il sapore più dolce, invece, la banana con buccia gialla è la scelta perfetta. Infatti, nonostante la sua dolcezza, data dagli zuccheri, fruttosio, è più digeribile ed è ricca di antiossidanti. La mia preferita, per gusto e proprietà, è la banana che presenta qualche macchia nera sulla buccia, ancora più dolce e ricca di antiossidanti, utili per combattere radicali liberi, responsabili dell'invecchiamento precoce delle nostre cellule. La banana è un concentrato di vitamine, come la C, la A e la B6, un potente mix di salute per combattere gli stati infiammatori del nostro corpo, per la salute di pelle e occhi e, più in generale, di gran parte del nostro organismo. Tra i minerali presenti troviamo il magnesio e il potassio, importanti per combattere affaticamento e stanchezza e per far funzionare i nostri muscoli e il nostro sistema nervoso nella maniera corretta. Basti pensare che la banana è il frutto più consumato dagli sportivi, anche per evitare combattere i crampi muscolari. Le banane contengono inoltre triptofano, una sostanza capace di aumentare la produzione di serotonina da parte dell'organismo, migliorando di conseguenza l'umore. Quando mangiare la banana, al mattino, per esempio, con dello yogurt e una manciata di frutta secca o affettata su un gustoso e nutriente pancake, o durante gli spuntini di metà mattina, per mantenere elevato il vostro livello di concentrazione, tra una lezione e l'altra, o metà pomeriggio, prima o dopo un allenamento. Mi raccomando, la prossima volta che andate al supermercato, ricordatevi delle banane. Grazie.